Ok, bene, benvenuti a tutti, continuiamo anche oggi a discutere delle operazioni con i seminumerici e oggi vediamo, in particolare nella lezione scorsa abbiamo visto le proprietà delle potenze oggi vediamo un altro concetto importante che è questo se prendiamo due numeri naturali A e B appartenenti ad N però si può estendere anche a Z con le stesse modalità diremo che A è multiplo del numero B se succede la seguente cosa esiste un N naturale tale che A è esprimibile come il prodotto N per B ok, esempio 15 è multiplo di 5 perché posso scrivere 15 come 3 per 5 in questo caso questo è il numero A questo è B e questo è N ok la frase inversa allora se A è multiplo di B allora si può dire anche che B è divisore di A ovvero sia dico che B è divisore di A se il rapporto A fratto B ovvero sia A diviso B è ancora un numero naturale quindi ovviamente B deve essere diverso da 0 perché abbiamo visto la volta scorsa la divisione per 0 non si può fare, non esiste d'accordo? la stessa cosa idem in Z dimmi se invece A è 0 posso mettere tutti i numeri? certo quindi 0 può essere diviso da qualsiasi numero naturale è un'estate un po' anomala però è corretto si può fare lo stesso cosa vale anche in Z cioè A e B possono essere interi con segno diverso da più va bene lo stesso e attenzione al concetto seguente il concetto di numero primo i numeri primi sono quelli che hanno come divisori il numero 1 oppure il numero stesso per un motivo che mi sarà chiaro a breve attenzione si dice che 1 non è un numero primo si conta i numeri primi a partire dal 2 ok? quindi i numeri primi sono 2 il 3 il 5 il 7 il 6 no perché è divisibile anche per 2 per 3 l'8 no perché è divisibile per 2 per 4 oltre che per 1 c'è poi il 9 neanche il 10 neanche c'è l'11 che è divisibile solo per 1 per 11 il 13 e così via già Archimede e Euclide hanno dimostrato che i numeri primi sono infiniti ok? non c'è un numero primo più grande di tutti gli altri e che non hanno una regolarità cioè dato un numero primo non c'è una regge generale che stabilisca come trovare i numeri primi a parte usare la divisione d'accordo? un processo importante tenendo conto di questi è proprio il fatto che i numeri primi sono particolarmente importanti perché ogni altro numero che non è primo ok? quindi qualunque altro numero in questo caso in N cioè naturale è scomponibile cioè è esprimibile come un prodotto in un prodotto di fattori primi in modo unico in modo unico ecco perché l'uno non è considerato primo questo si chiama è un teorema fondamentale dell'aritmetica qualunque numero naturale io abbia posso sempre scomporlo in un prodotto di numeri primi in modo unico facciamo un esempio che ne so 28 ok? è 7 per 4 4 e 2 alla seconda quindi questo è 7 per 2 alla seconda ok? 7 e 2 sono i numeri primi quindi questa è la scomposizione di 28 in fattori primi ed è unica non c'è un altro modo di scrivere 28 usando i numeri primi e questa è una cosa molto importante dal punto di vista del calcolo qualunque numero può essere scomposto in questo modo in fattori che sono numeri primi e quindi con i numeri primi si dice che sono anche i mattoni con cui costruisco tutti i numeri o se preferite mi vengono considerati come gli atomi dell'aritmetica cioè le componenti fondamentali con cui si costruiscono tutti gli altri numeri quindi sono particolarmente importanti d'accordo? la scomposizione in fattori è un procedimento cruciale perché allora la scomposizione in fattori primi è un procedimento che è essenziale per individuare quello che si chiama il massimo comune divisore tra diversi numeri e il minimo comune multiplo e queste due grandezze sono essenziali per operare con le frazioni cioè con gli insiemi razionali Q vediamo come ok supponiamo di avere a che fare con che ne so due numeri diversi chiamo un esempio semplice con due numeri supponiamo di avere A numero A che vale 35 e B facciamo l'esempio 12 ok vogliamo sapere qual è la loro scomposizione in fattori primi allora 35 finisce con 5 quindi è divisibile per 5 quindi lo dividiamo per 5 35 diviso 5 fa 7 7 è un numero primo quindi lo divido per 7 e poi rimane 1 quindi A lo esprimo come 5 per 7 B il 12 è un numero pari perché finisce con 2 quindi è divisibile per 2 12 diviso 2 fa 6 6 non è il numero primo è ancora divisibile ancora per 2 6 diviso 2 fa 3 3 è un numero primo lo divido per 3 e ottengo 1 quindi B è dato da 3 per qui ho 2 volte 2 quindi ho 2 alla seconda ok e il 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 a più avanti ci sarà indispensabile vedere se questi due numeri hanno divisori comuni cioè l'MCD che è il massimo comune divisore che cos'è il massimo comune divisore è formato dai fattori primi comuni cioè appartenenti ad entrambi i numeri con la potenza più bassa con la quale appaiono in questo caso beh non ho scelto un esempio molto felice perché non ce ne sono di comuni facciamo cambiamo A anzi no cambiamo il B facciamo 15 anziché 12 vedete un secondo di pazienza 15 divisibile anche questo per 5 e questo fa 3 3 1 quindi è 5 per 3 ecco in questo caso il massimo comune divisore tra 35 e 15 cioè tra 7 per 5 e 3 per 5 è ovviamente il 5 perché è un fattore comune presente in entrambi i numeri mentre il 3 appare solo nel secondo numero e il 5 solo nel primo il 7 solo nel primo ok viceversa il minimo comune multiplo si certo dimmi se prego per l'MCD devo trovare i fattori comuni quelli che sono presenti in entrambi con la potenza più bassa quindi la potenza è 1 quindi è 5 viceversa il minimo comune multiplo è dato dai fattori comuni e non cioè da tutti i fattori non comuni con la potenza più alta alta che è il minimo comune multiplo è un multiplo di tutti i numeri che sia però il più piccolo possibile quindi in questo caso l'MCD 35 e di 15 cioè l'MCD tra 7 per 5 e 3 per 5 è fatto dal 7 perché c'è nel primo numero dal 5 con la potenza più alta quindi comunque è 1 per 3 ok quindi avremo 7 per 5 35 per 3 e quindi 5 15 9 1 10 105 vedetevi controllare ok questo è il minimo comune multiplo cioè è il più piccolo numero intero che sia multiplo sia di 75 di 35 che di 15 vediamo di fare un altro il massimo comune divisore era 5 il massimo comune divisore è 5 perché il massimo comune divisore è il più grande numero che sia divisore di entrambi quando due numeri non hanno massimo comune divisore attenzione prendiamo per esempio l'MCD tra che ne so 12 e un altro numero no 12 non va bene 16 e 15 16 lo scomponiamo come 2 alla quarta e 15 come 3 per 5 qui non ci sono fattori comuni quindi il massimo fattore divisore comune è 1 non ci sono fattori comuni quando succede questo se ho due numeri che hanno un MCD tra A e B uguale a 1 cioè il cui massimo comune divisore è 1 dico che A e B sono primi tra loro cioè A è primo rispetto a B e viceversa cioè non hanno divisori comuni a parte l'uno ok fate molta attenzione a questo procedimento perché qui lo utilizziamo in relazione a quantità numeriche note a breve lo faremo per quantità che coinvolgono espressioni letterali cioè con le lettere con i molinomi i polinomi ok però l'idea di base è esattamente la stessa andiamo a trovare qualche esercizio siamo 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 per esempio proviamo a fare degli esercizi ripeto siamo a pagina 39 cominciamo con 259 dice calcola MCD ed MCM tra questi numeri quindi da già scomposti 2 alla quarta per 5 alla seconda è il primo numero chiamiamolo A poi B è 2 alla terza per 3 alla quarta per 5 alla settima e c'è un terzo C che vale 2 alla seconda per 3 alla quinta allora qui cerchiamo prima l'MCD che è il massimo comune divisore allora i fattori primi sono in generale il 2 il 5 e il 3 però 5 è presente nel primo numero nel secondo ma non nel terzo attenzione non confonderlo con l'esponente il 3 è presente nel secondo e nel terzo ma non nel primo l'unico presente dappertutto è il 2 quindi il fattore comune sarà il 2 con la potenza più bassa che è quella con cui appare in C che è 2 alla seconda quindi fattore comune con potenza più bassa con la quale appare quindi 2 alla seconda per gli amici se volete 4 divide tutti questi numeri è un divisore di tutti qui lo mettiamo qua davanti ok il minimo comune multiplo invece è fatto da tutti i fattori che siano comuni o meno non importa con la potenza più alta quindi ci sarà il 2 per 5 per 3 la potenza più alta con cui appare il 2 è 2 alla quarta come in A il 5 appare al massimo alla settima potenza dentro il numero B e 3 appare alla quinta potenza nel numero C non ha senso qua sviluppare le potenze perché verrebbe un numero enorme va bene così di questo è i fattori comuni e non quindi questo è formato da tutti i fattori i fattori primi con la potenza più alta con la quale appaiono ok proviamo il esercizio sto finito qui l'esercizio lo proviamo questo il 264 trova MCD ed MCM tra i seguenti numeri 35 49 e 70 quindi la prima cosa da fare scomponiamo i fattori primi il 35 c'è una domanda prego volevo chiedere quando si scomponono i fattori primi è obbligatorio iniziare dal numero più grande con cui si può dividere no basta usare un numero primo appunto 35 è un numero divisibile per 5 perché finisce in 5 tutti i numeri che finiscono in 0 o in 5 sono divisibili per 5 quindi comincia quel 5 viene 7 7 numero primo quindi 35 è scomponibile in 7 per 5 poi abbiamo il 49 49 e 7 alla seconda e poi abbiamo il 70 qui possiamo cominciare sia con 2 perché essendo finendo per 0 è pari sia con che un 5 proviamo con 2 cominciamo con il più piccolo 70 diviso 2 fa 35 questo è divisibile per 5 qui otteniamo un 7 7 numero primo quindi 70 è scomponibile in 7 per 2 per 5 o 2 per 5 per 7 come preferite qui quindi adesso il massimo comune divisore è formato dai fattori comuni l'unico comune è il 7 che è presente in tutti quanti quindi qui avremo 7 con la potenza più piccola che è 1 quindi 7 è vasta perché 7 è la seconda è nel secondo numero ma il 2 non è la potenza più bassa è quella più alta mentre il minimo comune multiplo è formato da tutti i fattori quindi 2 per 5 per 7 li metto in ordine con la potenza più alta 2 appare solo la prima potenza 5 appare la prima potenza 7 appare la seconda potenza quindi l'MCD è 7 l'MCM è 7 la seconda fa 49 2 per 5 fa 10 490 ok dimmi per l'MCM basta tenere la cioè bisogna fare pure il calcolo 2 per 5 ma non è detto in generale che serva puoi anche lasciarlo così in generale quando opereremo con le espressioni letterali ok sarà importante tenerselo cioè sia l'MCD che l'MCM mantenere la scomposizione in fattori quei numeri puoi anche moltiplicarlo come preferisci in qualche contesto conviene tenerlo così in qualche altro conviene moltiplicarlo vedremo magari in dettaglio un po' più avanti proviamo proviamo ancora questo esercizio il numero 271 anche qui troviamo MCD e l'MCM di questi numeri 110 120 130 allora qui abbiamo 110 che è divisibile scriviamo qua sotto sicuramente per 2 visto che finisce con 0 ok quindi viene 100 fa 55 questo è divisibile per 5 otteniamo 11 e 11 è numero primo quindi questo è scomponibile in 2 per 5 per 11 poi abbiamo il 120 anche qui cominciamo dividendo per 2 abbiamo 60 dividiamo ancora per 2 abbiamo 30 dividiamo ancora per 2 abbiamo 15 possiamo dividere per 5 qui abbiamo 3 1 quindi questo è 2 appare 3 volte quindi 2 alla terza per 5 per 3 poi abbiamo il 130 e qui dividiamo per 2 qui viene 50 e 15 65 qui dividiamo per 5 e viene 13 e 13 è numero primo quindi questo viene 2 per 5 per 13 quindi adesso mcd è dato da l'unico fattore primo comune è il 2 ma se no ce ne sono 2 e il 5 anche il 5 è presente dappertutto quindi avremo 2 la potenza più bassa che è alla 1 per 5 cioè 10 oppure 2 per 5 mentre l'mcm è tutti i fattori comuni e non la potenza più alta quindi abbiamo 2 alla terza per 5 per 3 per 11 per 13 possiamo anche fare il calcolo quindi abbiamo 2 alla terza che fa 27 per 5 per 3 per 11 per 13 per 13 scusa la terza che fa 8 un attimo di pazienza per 5 per 3 nel 17 mila e 160 ok vediamo domanda bene magari eserciti diretti ne trovo qualcuno vediamo anche questo dobbiamo trovare il massimo comune divisore tra 15 e 25 quindi qui scomponiamo il 15 come 3 per 5 e 25 e 5 alla seconda di cui l'unico fattore primo comune il 5 la potenza più bassa è la 15 poi troviamo il minimo comune multiplo tra 5 e 10 anche qui 5 il numero primo con lasciamo 5 10 e 2 per 5 il minimo comune multiple fatto da due per 5 c'è 10 e quindi a questo è uno degli esercizi di riepidolo prima di passare alla prossima parte della lezione io direi che ci possiamo fermare qui e mettiamo in pausa io direi che